La serietà del fenomeno non può permettere di abbassare la guardia, quanto scrive il Presidente della Repubblica Napolitano in una lettera inviata a Don Patriciello, parroco di Chebano, sul problema della terra dei fuochi. Il mio sarà un impegno costante, assicura il Capo dello Stato, che oggi ha ricevuto il Sindaco dei Magistris a Villa Rosleri. È morta Carolina Sepe, la ragazza di 25 anni di Lauro, rimasta vittima lo scorso 25 di agosto di un grave ferimento ad opera di un vicino di casa che in una sparatoria uccise il padre della ragazza. Prima di morire la 25enne aveva partorito la bimba che portava in grembo. Ho registrato quel colloquio solo per averne memoria, lo ha detto l'ex assessore al bilancio del Comune di Napoli, Realfonso, a proposito della conversazione incisa sul nastro dell'ultimo colloquio con De Magistris. Il sindaco, atto ignobile, lo denuncerò. Ufficialità entro 48 ore, praticamente fatta per il francese Gonalon, che vestirà la maglia azzurra. Intanto a Castelvolturno il Napoli si prepara per la sfida di lunedì contro la Sampo. Buongiorno dalla redazione di Otto News e ben trovati all'appuntamento delle 13.30 in diretta con la nostra informazione. Ad aprire oggi il nostro telegiornale lo abbiamo ascoltato dai titoli. La lettera inviata dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in questi giorni in visita privata a Napoli, dove si sta riposando a Villa Rosberi. Napolitano scrive a Don Maurizio Patricello a proposito della terra dei fuochi, dice che non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto assicura il suo personale impegno. Penultimo giorno a Napoli per il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in soggiorno privato a Villa Rosberi con la signora Clio. A causa della raucedine che quasi gli impedisce di parlare del mal di gola, Napolitano ha rinunciato ad uscire. Ma ciò non ha impedito al Capo di Stato di ricevere in visita i rappresentanti delle istituzioni locali. Il Presidente della Repubblica ha inviato anche una lettera a Don Maurizio Patricello, il parroco di Caevano, uno dei comuni della terra dei fuochi. La serietà del fenomeno non può permettere di abbassare la guardia, scrive Napolitano nel testo inviato al parroco. Vorrà credere nel mio costante impegno a sollecitare a tutti i livelli di governo gli interventi necessari. Don Maurizio Patricello aveva avuto la possibilità di parlare con il Presidente della Repubblica nell'incontro del 29 settembre scorso in Prefettura a Napoli, durante il quale rappresentò al Capo di Stato la drammatica situazione in cui vivevano tante madri i cui piccoli erano colpiti da gravi patologie tumorali ricondotte al criminale inquinamento dei territori della Campania. Il Presidente conosce il dramma che noi viviamo quotidianamente. Sono fiducioso le parole di Don Maurizio Patricello dopo aver ricevuto la lettera del Presidente della Repubblica. Lo voglio tanto ringraziare per l'attenzione che sta dimostrando per la nostra terra. Nella lettera del Presidente, ha detto ancora Don Maurizio, ci sono tantissimi passaggi interessanti. Mi ha toccato molto quel richiamo al grido accorato delle madri dei bambini colpiti da gravi patologie tumorali. Sono fiducioso, ha aggiunto ancora il parroco di Caevano che ha pubblicato la lettera sul suo profilo Facebook e mi rincora il fatto che il Presidente ritiene che la questione richiede ancora energie ed attenzione. Condivido in pieno le parole del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nella lettera inviata a Don Maurizio Patricello con l'invito a non abbassare mai la guardia. Quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro. Ci uniamo alle parole del Presidente, soprattutto nel chiedere al Governo ulteriori azioni e risorse per sostenere le attività già avviate dal nostro esecutivo, dalla Regione e dagli altri enti, aggiunge il Governatore. Già nel 2010 conclude nel silenzio generale della comunicazione. Noi abbiamo iniziato questo lavoro difficile che ha portato adesso ad avere un'attenzione sempre più forte proprio sul problema della terra dei fuochi. E questa mattina il Presidente napolitano ha ricevuto anche il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è andato De Magistris a Villa Rosberi. De Magistris all'uscita si è fermato con i giornalisti, ha detto al Capo dello Stato, esposto i temi centrali della città e soprattutto la grande opera di ristrutturazione economica e finanziaria che stiamo facendo e la necessità che il Comune venga messo in sicurezza attraverso l'approvazione di un piano di riequilibrio. Ci occupiamo adesso di cronaca. È morta Carolina Sepe, la donna in coma, da quattro mesi dopo che lo scorso 19 di ricembre all'ospedale Cardarelli di Napoli aveva dato alla luce la piccola Maria Liliana. La donna era rimasta ferita alla testa lo scorso agosto durante una lite a Lauro in provincia di Avellino nel corso della quale fu ucciso il padre. Era il 25 agosto quando Carolina rimase ferita, incinta alla decima settimana. Le sue condizioni apparvero subito gravissime ed anche per questo che la sua gravidanza e poi il parto di Maria Liliana a poco più di un chilo di peso apparvero a tutti come un miracolo. La tragedia appunto si era verificata in un cortile di Lauro, provincia di Avellino. È lì che l'ex guardia giurata Domenico Aschettino iniziò a sparare uccidendo il papà di Carolina Vincenzo Sepe e ferendo anche la mamma e il fratello della giovane. Una lite è scoppiata, secondo la versione dell'omicida, per motivi di viabilità nella quale rimase ferita anche la suocera di Vincenzo Sepe, morta due mesi dopo due mesi di agonia. Anche le condizioni della piccola Maria Liliana restano comunque gravi. Ferito alla gamba da un colpo d'arma da fuoco è accaduto la scorsa notte a Ponticelli, quartiere alla periferia est di Napoli. Secondo quanto riferito dalla vittima alla polizia, l'uomo mentre stava percorrendo a bordo di uno scooter una strada proprio di Ponticelli, dopo mezzanotte sarebbe stato avvicinato da due uomini, anche loro a bordo di uno scooter. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale Villa Betania a precedenti per furto e droga a suo carico anche un 416 bis. E ancora la cronaca, spari in un negozio che aderisce all'impegno anti-racket, anti-tangente, spari alla vetrina, indaga la polizia, non si esclude che si tratti di una intimidazione. Tornano a fumare le canne delle pistole a forcella. A meno di un mese dal tragico omicidio di Mario Castellano, che ha rigettato il quartiere popolare di Napoli nella paura, in una movimentata notte di Capodanno, le attività commerciali sono state il bersaglio di una banda di giovani che ha esploso i colpi contro diverse vetrine serrande. Un ride di Balordi o un preciso avvertimento a chi non paga il pizzo nella zona? Sono queste le ipotesi al vaglio degli investigatori che però devono prendere atto che i negozi bersaglio dell'atto sembrano essere stati presi di mira e non finiti per caso nella traiettoria dei proiettili. Tra questi il ristorante Maccarò, che ha aperto i battenti pochi mesi fa, un progetto sociale per permettere alle donne del rione con forti problemi economici di avere un'occasione, anche loro, nel difficile universo lavorativo partenopeo. All'ombra di Via Duomo il timore resta quello di una faida di camorra crescente e con questa l'ombra del racket che diventa terreno di scontro tra le diverse fazioni formate da esponenti che in passato sono stati legati ai clan che da vent'anni dominano la zona, i Giuliano e i Mazzarella. Il clima del quartiere, specie alla luce dell'ultimo omicidio, non è molto sereno, conferma il parloco della chiesa della Santissima Annunziata, Don Luigi Calemme. Non spetta a medire se si tratta di intimidazione o meno, afferma, ma di sicuro è a rischio l'incolumità pubblica. E ci spostiamo adesso al Comune di Napoli. È una vicenda di miseria umana. a registrare un colloquio, infatti, tra gli atti più ignobili dell'essere umano. È così che De Magistris considera quanto fatto dall'ex assessore al bilancio proprio del Comune partenopeo Riccardo Realfonso, che nel luglio del 2012 registrò la conversazione in cui appunto De Magistris gli dava il ben servito. Il sindaco lo ha detto a margine della presentazione delle iniziative dell'amministrazione comunale per il 2014, e ha annunciato anche che denuncerà l'economista. Doveva essere l'uomo scelto dal sindaco alla vigilia della rivoluzione arancione per mettere a posto la cassa disastrata ereditata dall'amministrazione precedente. A distanza di anni, invece, durante la conferenza stampa relativa ai bilanci di Palazzo San Giacomo, Realfonso non è al tavolo e le parole di De Magistris rivolte al suo ex assessore al bilancio sono avvelenate. Il motivo è dato dalla registrazione che lo stesso Realfonso ha fatto dell'ultimo colloquio col primo cittadino prima di essere silurato, e oggi resa pubblica dai quotidiani locali. Un modo per tutelarsi da pressioni quasi minacciose, sostiene Realfonso. Un atto ignobile lo bolla il sindaco. Avrei potuto anche fare una scelta sbagliata, e oggi dopo due anni e mezzo venire qua e dire ho sbagliato a mandar via Realfonso. Invece, meno male, lo pensavo prima, e dopo questa miseria umana che ho visto stamattina, devo dire che anche dal punto di vista umano sono particolarmente lieto di aver fatto quella scelta sofferta, perché avendolo scelto io e avendo poi deciso diversamente ho dovuto ammettere un errore. Io sono persona in grado di ammettere gli errori quando si fanno. Il successore di Realfonso, Palma, è, secondo il sindaco, l'uomo che ha salvato Napoli dal disastro. Con lui al fianco, De Magistris snocciola quanto di buono fatto nel 2013 e le intenzioni del 2014, previsioni che non tralasciano la spesa sociale. Ma il primo cittadino guarda oltre ad un progetto costituzionale e legislativo che dia la possibilità ai comuni di essere autonomi. Un attacco nemmeno troppo velato al Governo centrale, che da sempre è tacciato dal sindaco, di imporre tasse e far ricadere la colpa sulle amministrazioni locali. Non vogliamo più subire ingiustizie, afferma De Magistris. Vogliamo avere capacità di spesa e autonomia di imposizione. Sono due anni e mezzo di duro lavoro, però è chiaro che ho voluto mandare un messaggio forte sul fatto che noi vogliamo unire le forze della città. Io mi sento un sindaco di tutta la città e voglio lavorare in questo modo, quindi non facendo scelte che dividono, ma scelte che uniscono. Poi noi stiamo cambiando in modo strutturale Napoli e quindi questo è un progetto di lungo respiro e dare anche il segnale, siccome ogni tanto c'è qualcuno che ti propone candidature, incarichi e quant'altro, ho voluto dare un messaggio alla città che io i prossimi anni farò solamente il sindaco di Napoli. Ed è arrivata anche la controreplica appunto dell'ex assessore al bilancio Realfonso che dice a proposito della registrazione del mio ultimo colloquio proprio con il sindaco De Magistris avvenuto il 17 luglio del 2012, è necessario ricordare il contesto del tutto particolare e gravissimo in cui mi ero trovato. A questo proposito ricorda Realfonso che vi erano stati una serie di contrasti forti, particolarmente tra me e l'assessore Narducci da un lato e sindaco e vice sindaco Sodano dall'altro. Questi contrasti avevano riguardato principalmente le 350 assunzioni dell'Asia che io ritenevo illegittime, dice Realfonso. Ancora la transazione con la Romeo che ho cercato in tutti i modi di evitare e la delibera sulla ricognizione straordinaria del bilancio finalizzata a far emergere il gravissimo buco di bilancio del Comune che io avevo fortemente voluto e portato all'approvazione e anche il secondo piano di Palazzo San Giacomo che aveva invece estremamente osteggiato. A seguito di queste tensioni, spiega dunque, Realfonso, si era creata una situazione in cui tutti coloro che sostenevano la battaglia per la legalità portata avanti soprattutto da Narducci e me venivano fatti oggetto di una pressione insistente e intollerabile con tanto di attacchi da parte dei giornali. Per questa ragione, quando fui improvvisamente convocato a tarda serata decisi di registrare proprio la conversazione avvenuta con De Magistris anche per tornare a rifletterci in condizioni di maggiore serenità. Allorché riferì ai magistrati della Procura questa circostanza furono loro che mi obbligarono proprio a consegnare quella registrazione. E dunque l'abbiamo anche detto De Magistris si è detto intenzionato anche a denunciare Realfonso per quanto fatto la sera del 17 luglio del 2012 quindi una vicenda che sicuramente avrà altri risvolti. Adesso ci occupiamo invece del caro assicurazione. Un paradosso tutto campano quello delle assicurazioni automobilistiche che appunto aumentano eppure la Campania è tra le ultime regioni d'Italia a denunciare i sinistri. L'appello arriva anzi la denuncia arriva soprattutto dalle associazioni che tutelano i consumatori che dicono bisogna veramente tutelare coloro che non fanno incidenti e stanare invece i truffatori. Meno sinistri denunciati ma l'assicurazione aumenta lo stesso. E questo l'ennesimo paradosso tutto campano sul caro RC Auto che per i napoletani si trasforma nell'ennesima batosta. Rincari dunque nonostante la Campania sia la regione tra gli ultimi posti in Italia per numero di sinistri denunciati nel 2013. Circa 97 automobilisti campani su 100 che rinnovano l'assicurazione sarebbero infatti da premiare per non aver fatto incidenti. L'assicurazione che paghiamo a Napoli è tre volte l'Imu dice il presidente campano di Feder Consumatori Rosario Stornaiolo e ci sembra inverosimile che si facciano accanite battaglie per risparmiare sulle tasse riguardanti gli immobili e poi si sia totalmente indifferenti sui costi assurdi raggiunti dagli assicurazioni auto. Attualmente l'Italia paga l'80% in più della Germania e il 100% in più dell'Olanda. Ma tra la stessa Campania e le altre regioni del nord ci sono differenze enormi di premi assicurativi. Napoli paga tre volte più che a Milano. Insomma i campani non fanno o quantomeno non denunciano sinistri spiega Stornaiolo. Eppure pagano l'RC Auto tra le più alte del mondo qualcosa non quadra. La proposta dell'associazione che difende la categoria dei cittadini è quella di tornare ad un punto di partenza che sia uguale per tutti punendo però chi imbroglia. Istituiamo un registro dei tasgressori aggiunge Stornaiolo in cui vengano segnalati tutti quei falsi testimoni e artefici di incidenti truccati ma premiamo chi da sempre paga e viene invece danneggiato ingiustamente da rincari continui. La stangata più grossa è quella che colpisce i motociclisti. Tariffe che superano anche i 2400 euro dice Stornaiolo che talvolta superano addirittura il valore stesso del ciclomotore. Molti ragazzini entrano nell'illegalità proprio per questo non pagando il premio assicurativo e preferendo il sequestro nel caso si verificasse il controllo da parte delle forze dell'ordine. Un'emergenza sociale dunque in quanto escono con le ossa rotte soprattutto le piccole attività coloro i quali lavorano con le autovetture. Le proposte sono chiare tariffe uguali per tutti in asprimento delle pene per i trasgressori ma soprattutto controlli più efficienti delle stesse società assicurative. Decimo anniversario per insurgenza festeggiato con delle provocatorie e simboliche manifestazioni di protesta. Prima la protesta al COISP un sindacato di polizia poi l'occupazione temporanea di Equitalia e di una sede della BNL di Napoli con tanto di spumante e coriandoli infine l'ingresso in una delle torri del maschio angioino da cui hanno srotolato uno striscione. I militanti del laboratorio occupato insurgenza si hanno scelto sicuramente un modo originale per festeggiare i dieci anni di militanza. Era infatti il 4 gennaio del 2004 quando un gruppo di giovani dell'area nord di Napoli decise di occupare una ex scuola per farne uno spazio di militanza. Tante le battaglie condotte negli ultimi anni da insurgenzia a cominciare da quella contro l'apertura di una discarica a Chiaiano passando per le dure contestazioni nei confronti di Equitalia per arrivare oggi alla mobilitazione contro il biocidio in atto in Campania e la costruzione di un nuovo termovalorizzatore a Giuliano. All'occupazione del 2004 sono seguite poi altre due una in via Mezzocannone l'altra nella galleria Principe Umberto in due altri spazi di fatto abbandonati e poi riaperti alla cittadinanza. Sono dieci anni da quando abbiamo occupato una vecchia scuola abbandonata in via vecchia San Rocco che un gruppo di studenti precari ragazzi di periferia hanno occupato uno spazio l'hanno liberato l'hanno riconsegnato alla città e hanno prodotto centinaia di eventi culturali all'interno dello spazio occupato e hanno prodotto tutta una serie infinite di lotte all'interno di queste città ricordiamo negli anni ad esempio la lotta di Chiaiano contro la discarica di Chiaiano oggi la lotta contro il biocidio per fermare le catombe in atto qui in Campania ma non solo studenti universitari fiume in piena anche movimenti di lotta per l'abbattimento delle vele per la riqualificazione dell'area nord un altro centro sociale occupato al centro storico mezzo cannone in piena zona studentesca un'occupazione fatta da studenti della Federico II e non solo è difficile descrivere dieci anni di storia personale e di storia di una collettività in movimento si chiama Libri in soccorso alla Santo Bono l'iniziativa voluta da Legambiente dalla direzione dell'ospedale pediatrico scopriamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio alleviare le sofferenze della degenza per i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli attraverso la lettura è l'obiettivo dell'iniziativa di Legambiente Libri in soccorso per festeggiare la sua particolare epifania si tratta di una libreria ad hoc donata ai piccoli pazienti dell'ospedale della zona collinare di Napoli un progetto che va a inserirsi nel più vasto invito alla lettura dell'associazione ambientalista che ha già promosso iniziative come quella della libreria da spiaggia e Libri al centro la libreria è stata realizzata grazie alla donazione di centinaia di volumi per bambini da parte delle scuole di Napoli e provincia e dei circoli di legambiente e prevede per gli ospiti della struttura la possibilità di prendere gratuitamente un libro e donarne altri gialetti attraverso familiari e visitatori sentiamo Rossella Muroni direttore generale di legambiente e Carmine Pecoraro direttore del dipartimento di nefrologia e trapianto dell'ospedale Santo Bono è il punto più importante in cui anche un'associazione come legambiente sente di essere più utile l'iniziativa delle librerie per tutti è un'iniziativa che nasce sulle spiagge in estate poi è arrivata nei centri commerciali ora con questa esperienza al Santo Bono arriviamo anche negli ospedali dove sicuramente la sofferenza racconta moltissimo delle condizioni di vita però noi abbiamo bisogno anche di raccontare invece quello di cui questa società ha bisogno cioè una nuova generazione anche disponibile al cambiamento allora i piccoli ospiti che purtroppo sono qui dentro i bambini più fortunati che qui dentro non ci sono hanno questo scambio attraverso la lettura e i libri che parla di solidarietà di crescita e di voglia di cambiare è un modo appunto per cercare di stimolare i ragazzini alla lettura da un lato come fatto ludico appunto durante il ricovero che sicuramente non è un momento molto bello per i bambini e le famiglie però dall'altro appunto come fatto culturale perché sappiamo che oggi i ragazzini sono molto distratte dalle tecnologie videogiochi eccetera e quindi questo è un momento molto importante la cosa bella che mi piace sottolineare è che tra i libri ci sta anche una raccolta di topolino che è una cosa che piace molto anche agli adulti io ho uno dei miei figli che è molto grande a cui compro settimanalmente ormai da oltre 20 anni il topolino e il tradizionale concerto dell'Epifania ritorna quest'anno ispirato a Papa Francesco arriva alla diciannovesima edizione l'ormai tradizionale concerto dell'Epifania che si terrà a Napoli presso il Teatro Mediterraneo forte di un format incentrato su un originale mix di religiosità cultura e musica il racconto proposto quest'anno sarà ispirato alle parole di Papa Francesco che individuano nella fraternità l'elemento fondante di una convivenza solidale e pacifica in questo senso anche la scelta degli ospiti che narreranno con la musica storie di migranti e multiculturalità dalla portoghese Cristina Branco alla cinese Lili fino ad arrivare ad artisti italiani del calibro di Eugenio Finardi Nino Buonocore Ero e Pace e Gialma Megretta sentiamo Giuseppe Reale ideatore della chermesse presidente dell'associazione Oltre il Chiostro e il direttore artistico Franco Sorrentino innanzitutto la grande novità è che un evento musicale e televisivo così importante abbia una storia di 19 anni 232 artisti in cui riconosciamo direi il meglio della musica leggera degli ultimi decenni un cast come ogni anno internazionale abbiamo artisti bravissimi che spaziano dal jazz alla musica world alla musica nostra italiana come Eugenio Finardi abbiamo Roy Paci abbiamo Giamma Megretta il nostro conterrani una siciliana che ha vinto quattro gremi che si chiama Giuseppina Torre è molto importante questa cosa Novità assoluta della diciannovesima edizione del concelto dell'Epifania sarà l'assegnazione dei premi Nativity in the World riconoscimento riservato a personalità ed enti che si sono distinti per la loro capacità di rispondere creativamente alla generale situazione di stagnazione a consegnare i premi saranno Gennaro Matino portavoce dell'omonima associazione e Pasquale Sommesi assessore regionale al turismo e beni culturali sono tante iniziative che vanno sempre nella direzione della tradizione ma anche della valorizzazione di questo immenso patrimonio e che vede la città di Napoli centrale in tante iniziative ma sull'intero territorio regionale e appuntamento al Vomero in piazza Van Vitelli domani e lunedì dalle 17 e alle 19 con le coreografie giganti di luce e fontane con getti d'acqua e fuoco a ritmo di musica per promozione turistica e delle attività imprenditoriali un progetto realizzato dalla Camera di Commercio di Napoli in occasione proprio di queste festività e quanto evidenzia un comunicato dell'ente camerale nel quale si afferma anche che per l'occasione la piazza sarà transennata per permettere al pubblico di assistere agli spettacoli da distanza di sicurezza l'evento è realizzato anche in collaborazione con la Quinta Municipalità e continuiamo ad occuparci di Epifania tradizionale festa all'ospedale Pascale voluta dalla Lilt Un appuntamento ormai fisso e soprattutto tanto atteso dai piccoli pazienti dell'Istituto Pascale di Napoli stiamo parlando della festa dell'Epifania l'iniziativa organizzata dalla Lilt di Napoli guidata da Adolfo Gallipoli del Rico e dall'Istituto Pascale di Napoli in collaborazione con la Camera di Commercio che confermando anche per quest'anno il proprio sostegno al progetto Ludoteca ne consente l'apertura pomeridiana anche per il 2013 come spiega il Presidente della Camera di Commercio di Napoli Maurizio Maddaloni è il terzo anno grazie al nostro contributo d'intesa con l'Istituto c'è una Ludoteca che viene aperta anche nel pomeriggio a favore dei bambini figli di pazienti che vengono qui per le terapie quindi in una condizione psicologica un po' particolare l'Istituto Tumori è quello che ci ospita e quindi come dire questi bambini trovano un momento di accudimento specializzato con assistenti specializzati una maniera per rendere meno gravosa ai genitori una sosta in un luogo certamente non piacevole e al tempo stesso intrattenere i bambini una festa dedicata ai bambini dell'ospedale ai quali vengono distribuiti tanti piccoli doni in occasione della festività della Befana un modo per dare ai bimbi e ai ragazzi in cura una dimostrazione di affetto di presenza di condivisione che si materializza anche attraverso dei doni con il Presidente della Lilt di Napoli all'evento ha preso parte il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale dei Tumori Pascale Tonino Pedicini soddisfatto dell'iniziativa abbiamo disposto in bilancio una cifra di 300.000 euro per la costruzione nella Pineta di un padiglione che sarà dedicato alla nuova ludoteca e con una opportunità nuova lo apriremo al quartiere sarà un asilo nido non solo per i figli dei nostri dipendenti o delle pazienti che vengono qui a curarsi ma anche per tutto il quartiere sindaco assessori e consiglieri comunali di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli vestiranno per un giorno i panni di camerieri per servire pranzo e doni a 70 bambini in difficoltà economiche residenti sul territorio per l'epifania infatti il primo cittadino Lello Russo si recherà assieme ai consiglieri comunali di maggioranza nella scuola delle suore salesiane dove sarà allestito il pranzo per i 70 bambini individuati dalle organizzazioni dei commercianti che riceveranno appunto da sindaco e assessore anche dei giocattoli sold out nelle tre date di fine dicembre per il concerto di Pino Daniele si replica stasera e domani al Palapartenope altre due date per contenere il sold out per cantare ancora che Napoli è tutta nata storia dopo le tre serate di Pino 1 il 28 29 e 30 di dicembre Pino Daniele torna al Palapartenope di Fuorigrotta con le date del 4 e del 5 gennaio canta il suo repertorio storico spazia nei nuovi brani e lo fa accompagnato dagli amici di una vita e da quelli appena conosciuti non sembra vero nemmeno a loro di essere tutti qui assieme al mucchio selvaggio della prima edizione nel dicembre 2012 se ne sono aggiunti ancora degli altri qualcuno non era mai salito su di un palco con l'altro qualcuno ha messo da parte antichi riancori qualcun altro non nasconde i lucciconi agli occhi l'elenco è infinito ci sono appunto i compagni del supergruppo ritrovato da James Enese a Gio Amoruso Rino Zurzo Lottone Esposito e Tullio D'Episcopo e ancora Teresa Desio Lina Sastri Clementino Egenio Bennato Ialma Megretta Enzo Gragnaniello e tanti altri importanti anche i nomi degli strumentisti del calibro di Tony Cerco all'Antonio Norato Ernesto Vitolo Agostino Marangolo c'è persino un abbraccio in famiglia con Pino Ennello Daniele uniti dalle note di I So Vicino a Ti un'altra prima volta in assoluto il canzoniere 37-38 i pezzi in scaletta è da mille a una notte insieme a quello del nero a metà ci sono ancora i successi personali dei suoi amici ospiti e poi i duetti gli incroci le sorprese i cambi di formazione l'album di famiglia scorre inesorabile mettendo da parte quanto già regalato l'anno scorso si trattava di un esperimento che piacerebbe considerare ora come nuova tradizione magari solo per il piacere di vedere l'adesio e Pino Daniele insieme tra Quan Chiob e Voglio e Turnare e ancora come 22 ettidi con me con Gragnaniello e o vinto con Clementino 5 serate evento dedicati al progressive napoletano quella corrente musicale e culturale che a partire dagli anni 70 ha affermato Napoli come protagonista nel panorama della cultura pop contemporanea a livello internazionale una storia musicale non solo raccontata da Pino Daniele assieme agli artisti che hanno reso grande quel progressive e ai giovani artisti che oggi ne proseguono il cammino uno spettacolo corale ricco di emozioni uniche tutte da vivere e ricordare ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria Ben ritrovati in studio con la nostra pagina sportiva gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti a Castelvolturno in vista del match di campionato della ripresa del campionato quando gli azzurri giocheranno lunedì allo stadio San Paolo contro la Sampdoria e intanto fervono le ultimissime dal calciomercato ci racconta tutto Paolo Del Genio Il Napoli lavora sul mercato per definire i primi colpi i primi due potrebbero arrivare anche nella prima settimana nei primi dieci giorni di gennaio Gonalon addirittura d'arrivo ormai con il francese con il suo club di appartenenza all'Olympique Lyon c'è l'accordo il centrocampista completerà il reparto insieme a Berami Hiller e Gemario non ci saranno più sorprese in quella zona del campo per quanto riguarda invece la difesa il Napoli si muove su più fronti potrebbe prendere Nkullu e potrebbe prendere Antonelli le due piste più facili da percorrere con Antonelli è quasi tutto fatto il giocatore del Genoa ha già un accordo con il Napoli bisogna passare ovviamente alle firme e anche con Cullu il giocatore è d'accordo e c'è anche un accordo di massima con l'Olympique di Marsiglia però il Napoli sta valutando anche altre opzioni le più gradite per Benitez difensori che lui conosce come Hager o come Vermalen non facili da muovere da Liverpool e da Londra con l'Arsenal oppure una soluzione che è venuta fuori nelle ultime ore con un calciatore che potrebbe addirittura poi coprire due ruoli e quindi anche forse bloccare l'operazione Antonelli stiamo parlando di Mimmo Criscito giocatore che è passato in Russia che il Napoli già voleva prendere qualche anno fa dal Genova campano napoletano un giocatore che può giocare sia da difensore centrale sia ovviamente anche da esterno sinistro essendo un mancino ed è chiaramente un calciatore che in vista dei mondiali potrebbe avere voglia di ritornare in Italia e farsi vedere meglio da Prandelli in una squadra importante come il Napoli non è un'operazione di mercato facile per i costi ma il Napoli ovviamente ci proverà e potrebbe questa operazione bloccarne altre quindi ecco perché ancora non si definisce nulla per difensori ed esterni perché c'è questa e altre opzioni che potrebbero venire fuori nei prossimi giorni per quanto riguarda invece l'attaccante con la probabilissima partenza e il ritorno in Argentina di Zapata il Napoli cercherà un vice Higuaín l'unico nome finora venuto fuori è quello di Matri ma non è da escludere anche qualche altra operazione con calciatori che attualmente militano in campionati europei e si stanno mettendo in evidenza che potrebbero venire con un'esperienza appunto già in Coppe europee come Champions Europa League potrebbero venire loro a completare il reparto del Napoli in vista di questi ultimi mesi un campionato Europa League che ricomincerà a febbraio con la doppia sfida con lo Swansi e Coppa Italia che inizierà per il Napoli in questa stagione il 15 gennaio con la sfida a San Paolo con l'Atalanta e poi il 29 in caso di vittoria il Napoli affronterà la vincente di Parma Lazio sempre al San Paolo per cercare di proiettarsi a una semifinale che potrebbe essere con la vincente di Juventus Roma quindi un'altra sfida affascinante poi nei mesi successivi per il Napoli per quanto riguarda il campionato testa ora sulla sfida con la Sampodoria probabile formazione con Raffaele il favorito su Reina che sta facendo sempre differenziato quindi non verrà rischiato difesa con Maggio Fernandez Albiol e Armero favorito questa volta su Revellir centrocampo con Berami sicuro e ballottaggio Illerge e Miley in avanti sicura la presenza di Cagliecon a destra e di Higuain da prima punta poi bisogna vedere se Amsic partirà dal primo minuto o toccherà ancora a Pandeve a sinistra il solito ballottaggio nei tre d'attacco tra Mertens e Insigne e con lo sport si chiude l'edizione delle 13.30 di 8 News la nostra informazione ritorna come sempre puntuale alle 19.30 grazie a tutti per averci seguito buon pomeriggio Grazie a tutti